Questo nuovo movimento è stato chiamato Street Art, però prima del nome già avevo delle intuizioni perché l'arte fissa, attaccata al muro, dipinta, mi sembrava già superata da un po' di tempo. Vivendo a New York, scendendo nella metropolitana, ero attratto dai disegni fatti a gessetto bianco sulle pubblicità scadute della metropolitana, erano dei fogli neri che la città metteva sopra a delle pubblicità scadute. Un giorno, passando da una situazione metropolitana, ho visto un gruppo di operai che con dei raschietti staccavano dal muro delle croste di vecchia pubblicità scaduta che finiva con i disegni di chitari che stavano mezzi strappati per terra. Allora ho chiesto agli operai se potevo averli e mi hanno detto io che nave! Allora per la prima volta ho salvato il primo chitari che poi ho ricomposto a studio e era molto bello, era ancora dei chitari molto semplici. Quello che ho salvato mi sembra si chiamasse Aerobic. Poi piano piano ho cominciato a collezionarli uno per ogni serie che lui disegnava nelle varie stazioni, ne salvavo uno per ogni esemplare in modo che un giorno sarebbero serviti come serve oggi a dimostrare tutta la storia dell'origine dei disegni di chitari che poi sono diventati quadri, eccetera. Poi è ovvio che poi con chitari siamo diventati amici, lui ha fatto una mostra da Leo Castelli quasi di fronte a dove c'avevo io lo studio. Quando chitari poi ha fatto una mostra da Tony Schafrasi nel 1982 io da quel momento lì siccome era diventato famoso e conosciuto a tutti ho smesso di collezionare. Mi ricordo che avevo trasformato per New York una Volkswagen nella testa del cavallo di Troia e andavo in giro con questa macchina tremenda che era capace anche di tirare dei razzi tant'è vero che ho sparato dei razzi contro l'Intrepid che era una portaerei che durante l'ultima guerra portava gli aerei a bombardare l'Italia. Allora come vendetta gli ho sparato dei razzi e sono scappato. Sono letteralmente un disobbediente. Cerco di spiegare che la mia arte si concretizza attraverso un concetto di realtà parallela dove nella realtà comune ci sono un sacco di ostacoli però nella realtà parallela gli ostacoli che si incontrano possono essere accantonati per dare posto a delle realtà desiderate. Grazie. Grazie.